Chiaramente nel titolo manca una parte che non ho messo perché sennò il titolo sarebbe tornato troppo lungo, ovvero prima di guardare questo video. C'è nel senso non iniziare a fare video su YouTube prima di aver visto questo video. In questo video vi illustrerò il mio percorso che secondo me è quello che dovreste prendere come riferimento non per vantarmi ma perché oggettivamente è la cosa migliore. Il primo video del mio canale l'ho pubblicato il 25 novembre 2018, questo qui, siate fieri del vostro passato. Cosa c'è dietro quel video? Un ragazzo determinato che vuole fare video su YouTube ma non sa un po' ancora come funziona, insomma deve capire se gli piace fare video su YouTube. Quel video l'avevo registrato con un'attrezzatura scarsissima, avevo un microfono che è lo stesso che ho adesso, avevo un computer che è quello che ho adesso e però registravo con un telefono che era uno Xiaomi da 200 euro ma insomma non era importante in quel momento la qualità, erano importanti altre cose. Quindi la prima cosa che dovete fare è scegliere un argomento e scegliere un punto della vostra stanza in cui posizionare il vostro telefono e cominciare a registrare. Cominciate a pubblicare i primi video su YouTube, vedete se vi piace, a quel punto dovete decidere se volete fare il salto di qualità e voi direte vabbè certo lo voglio fare ma vi serve un po' di coraggio. Perché vi serve un po' di coraggio? Perché io dopo quei cinque video decido di volere un pubblico. E cosa faccio? Decido di trasformare il mio account Instagram, un account da normale adolescente a un account da creator insomma. Quindi con un post ho deciso di fare questa transizione, questo post in cui ci sono io felice e sorridente appunto per aver fatto questa, per aver cominciato a fare video su YouTube. Con una bella descrizione proprio di quel perché ho iniziato, insomma appassiono la gente e a quel punto tutti sapevano a fare video su YouTube avevo inizialmente un pubblico composto da i miei amici che guardavano i miei video. E anche se appunto non erano interessati al tipo di video che portavo, comunque erano interessati a me e i miei video. E che era molto importante perché cominciate ad avere un primo feedback in termini di visualizzazioni, commenti, insomma. Cominciate ad avere una prima idea di come si carica un video su YouTube e a quel punto, dopo che avete il pubblico, dovete decidere di, se volete migliorare, perché è quello che a voi in quel momento interessa, dovete decidere una programmazione. Io vi consiglio di fare tre video a settimana come facevo io, perché dovete migliorare, l'unico modo è portare tanti tanti video senza concentrarvi in particolare su uno, sulla qualità, su una cosa... Cominciate a caricare video. Pubblicate la vostra programmazione dove volete, fate sapere, pubblicate tre video a settimana e rispettate questa programmazione. Portando tre video a settimana vi assicuro che migliorerete tantissimo sotto il punto di vista della qualità generale, perché poi l'errore che fanno molti, questa è un'altra cosa a non sottvalutare, è il fatto che su YouTube importi solo la qualità dei video. La cosa che dovete capire è che non interessa solo quello a YouTube, a YouTube interessano tante altre cose, il contenuto e soprattutto la vostra parlantina, che è molto importante per intrattenere il vostro pubblico, perché se parlate male e fate errori grammaticali a quel punto è difficile, ma non pensate che io non facessi errori grammaticali, io ne facevo tantissimi. Il messaggio che vi ho avuto, il messaggio che vi volevo dare. Parlavo malissimo, andate a vedere i miei vecchi video se vi interessa e noterete che appunto io facevo un sacco di errori, ma non era importante, non mi preoccupavo principalmente se un video fosse venuto male, non era importante. continuavo a pubblicare, sapendo che col tempo io sarei migliorato e questo è successo. C'è una frase che aveva detto, mi pare, Fedutorial, che è molto molto importante, ovvero di non concentrarvi troppo sulla qualità, su un video. Dio, ma questo qua sarà venuto male, le luci non sono a posto, no, qua ho fatto... No, tranquilli, non preoccupatevi di questo, perché alla fine chi è migliorato veramente tra uno che se vi ha fatto mille preoccupazioni e ha pubblicato magari un video a settimana e uno che ne ha pubblicati tre e anche fatti meno bene di quell'unico che ha pubblicato l'altro, sicuramente dopo un bel po' di tempo quello che sarà veramente migliorato sarai tu che hai pubblicato tre video a settimana con costanza e avrai migliorato sicuramente il modo di parlare, il modo in cui intrattieni le persone, gli argomenti di cui parli e anche la qualità video, ovviamente, tutto su una qualità generale migliori. E voi direte, ma perché devo pubblicare tre video a settimana così se tanto non mi guarda nessuno? Perché purtroppo YouTube dà poche possibilità di emergere e ve lo dico sinceramente, è difficilissimo crescere su YouTube in questo momento ma voi dovete sfruttare le poche occasioni che YouTube vi darà. Cosa voglio dire con questo? Che voi pubblicando tre video a settimana a un certo punto un video qualsiasi vi esploderà, si dice. YouTube deciderà di consigliare quel video alla gente e quell'unica possibilità che voi avete di crescere dovete sfruttarla. Quindi voi, migliorando col tempo, sicuramente YouTube prenderà un vostro video, non si sa perché prenderà un vostro video, lo consiglierà nella home alla gente e quel video vi porterà un po' di iscritti. Quali sono stati i miei primi video che mi hanno portato degli iscritti? Le top up, le top bot per Telegram. Ma quello è venuto molto dopo, infatti non è per nulla semplice farsi consigliare un video a YouTube. Continuiamo con il mio percorso, dopo un mese dal mio primo video su YouTube ho deciso di fare degli upgrade sull'attrezzatura, ho comprato delle luci, vi consiglio di andare a vedere i miei primi video perché così avete qualcosa di più concreto davanti e potete cominciare a prendere veramente spunto. Ho comprato delle luci, ho comprato un nuovo treppiede, insomma la qualità migliora piano piano. A quel punto quando mi capitano quelle occasioni della top up e top bot qualcuno si iscrive. Non erano tanti ma ho cominciato ad avere un pubblico che oltre ad essere composto da me c'era composto anche da gente che era appassionata di quello che portavo, il che è importante. E quindi niente, al fine il concetto è sempre quello, dovete continuare a pubblicare tre video a settimana con l'attrezzatura che avete finché non capite che a un certo punto avete bisogno di un upgrade, continuamente ad avere video che vi portano dei iscritti. Dove aver pubblicato video per otto mesi con la stessa attrezzatura, poi decisi e avevo tipo 600-700 iscritti, ora non ricordo. Ho comprato la fotocamera e tra l'altro, aneddoto interessante, la qualità video che vedete adesso potrebbe essere stata la stessa a giugno del 2018. Cioè io da giugno del 2018 ho la stessa attrezzatura. E se andate a vedere un video di giugno 2018 noterete che sicuramente non sarà la stessa. Questo per dimostrarvi che si migliora, l'unico modo che avete per migliorare è appunto continuare a pubblicare. E voi direte, sì ma è scontato? No, non è scontato perché alla fine solo quelli che lo fanno emergono. E quanti sono quelli che emergono? Pochi, molto molto pochi. Insomma poi potrei anche raccontarvi cosa è successo dopo, ho comprato la fotocamera, ma alla fine è sempre lo stesso concetto. E col tempo si migliora, capisci che argomenti portare, il video, più sempre più video ti esplodono. Non ci bisogna vi spiegare nient'altro perché il concetto è sempre quello, ma è un concetto che è difficilissimo da capire quando sei all'inizio. E lo capisco, però dovete farlo per forza se volete cominciare a creare contenuti su YouTube. Mi raccomando la parte importante soprattutto è cominciare ad avere un pubblico all'inizio se non fate quello. Che forse è la parte più difficile di tutto quello che ho detto nel video, ma se non fate quello è impossibile, molto difficile crescere inizialmente. Quindi non sottovalutate la cosa di trasformare il vostro profilo Instagram da un profilo normale a un profilo creator. Mi raccomando, non sottovalutatelo. Io spero di avervi aiutato con questo video. Quindi niente, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi, like, commento, tutto quello che volete. Noi ci vediamo in un prossimo video.